Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Oh Fiorentina A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Ben ritrovati ai nostri ascoltatori Difficile la partita che Fiorentina Women si troverà a disputare contro la Juventus Le Viola sono a meno tre punti dalla vetta che è attualmente occupata dalla vecchia signora Vietato perdere Non è facile Le ultime gare hanno visto sempre trionfante la Juve L'ultima gara di Supercoppa italiana si è conclusa per 2-0 a favore delle bianco-nere Il patron Viola Rocco Commisso ha ricevuto una lettera aperta Firmata da, per una cittadinanza attiva, Bagnaripoli, Italia Nostra, Onlus E dal circolo locale di Lega Ambiente Le associazioni hanno espresso il proprio timore per la nuova realizzazione infrastrutturale Commisso parlerà del progetto in conferenza stampa oggi alle 15.30 Presso il comune di Bagno a Ripoli Per Fiorentina1.com Graziano Davoli Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola